Ma in fin dei conti questa tanto decantata mirrorless è veramente un progresso tecnologico oppure è la più colossale truffa degli ultimi anni? Oggi andiamo a esplorare questo interessante argomento nel corso del video. Vi ricordo per quelli di voi che non fossero già iscritti che potete farlo subito cliccando il bottone qui sotto, cliccate anche la campanella per non perdere le notifiche e lasciate un like a questo video per darmi una mano a crescere su YouTube. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale, io sono Cesare e anche oggi parliamo di fotografia. Andiamo a parlare di mirrorless in relazione a tutto quello che è avvenuto prima perché sto sentendo diverse persone chiedermi e chiedersi se non sia veramente solo marketing e se non ci stiano veramente cacciando in gola a forza una strumentazione molto più costosa di prima che effettivamente apporta ben pochi vantaggi. Ora se da un lato è vero che molte persone decantano questa nuova tecnologia perché finalmente è più leggera e quindi riesce a tenerla in mano anche chi prima proprio non ce la faceva perché anche se costa molto di più finalmente abbiamo il display tiltabile su tutte quante le camere e quindi non bisogna più fare lo sforzo di abbassarsi per fare una foto ma la si può fare anche stando in piedi. Soprattutto se anche è vero che adesso abbiamo 300 miliardi di metodi di stabilizzazione nella lente, nel corpo digitale, mica digitale, è pur sempre vero che la qualità d'immagine non ha fatto grossi passi avanti negli ultimi anni. Ora, in questo video io vado a parlarvi per quanto mi è possibile bene di questa nuova tecnologia perché vado infatti a mostrarvi quello che è il risultato di un paio di fotografie che ho scattato in questi giorni e vado a dirvi quelle che sono le mie impressioni perché avendo io lavorato per molti anni con un sistema Reflex mi trovo adesso ad aver realizzato alcuni scatti con una fotocamera mirrorless. Senza perdere altro tempo vi snocciolo subito la mia impressione e nel frattempo vi faccio anche vedere la fotografia in questione. Questa, come potete facilmente intuire, è un'immagine scattata all'interno di un teatro. Il punto per cui vi faccio vedere questa immagine è questo. Questa è una foto scattata a mano libera, quindi faccio riferimento anche al mio video che è già uscito in cui vi parlavo di diversi metodi per scattare fotografia di interni a mano libera perché normalmente quando si scatta in certi contesti bisognerebbe utilizzare un treppiede per avere la massima resa possibile. Non sempre è possibile, questo è uno di quei casi. In questo caso all'interno di un teatro non era permesso portare strumentazione addizionale io non potevo portarmi un treppiede per cui ho fatto buon viso a cattivo gioco e ho scattato come potevo. Il punto qual è? È la prima volta che mi trovo a scattare interni a mano libera senza poter utilizzare il mio treppiede ma con una fotocamera mirrorless. Quindi metto in campo tutte le cose che già so e di cui già ho parlato del video sopracitato che vi lascio in card andatevelo a recuperare se volete imparare come poter massimizzare i vostri scatti di interni quando non avete il treppiede. Ho messo in campo tutte le mie conoscenze per tarare i parametri della camera in maniera tale da fare il lavoro migliore possibile. Il lavoro migliore possibile che cosa significa? Significa che io voglio più profondità di campo possibile però siamo in un contesto con pochissima luce quindi visto che sono già parto da f4 non andrò a chiudere tanto il diaframma. Sono avvantaggiato perché la scena è molto grande e perché sto usando un grandangolo molto ampio quindi sarà già quasi tutto a fuoco anche se non vado a chiudere tanto il diaframma. Quindi rinuncio a chiudere il diaframma perché tanto sto scattando a 14 mm quindi sarà già più o meno tutto a fuoco. E mi va bene, poteva non andarmi così bene se era uno spazio più ristretto non avevo questo vantaggio. Un ulteriore vantaggio è che comunque siamo su un sistema stabilizzato perché è una lente che ha uno stabilizzatore da 3-4 stop non mi ricordo più non ha neanche tanta importanza fatto sta che riesco a scattare abbastanza agevolmente a un ventesimo di secondo che è una misura di sicurezza per me a un ventesimo scattavo anche su Reflex quindi non ho voluto andare sotto perché non volevo perdermi degli scatti o avere degli scatti mossi sono rimasto lì e va benissimo così. Ho scattato però intorno a 1000-1200 ISO e questa è la grande, non dico sorpresa perché si sa già se ne parla quello che vi faccio notare però è che finalmente e dico finalmente, mi rendo conto che su un sistema che io reputo piccolo, giocattoloso perché per quanto mi riguarda le fotocamere professionali sono le Reflex per me la 5D è una fotocamera professionale Canon EOS R che sto utilizzando per fare questo tipo di scatti è una fotocamera che io considero una seconda camera non è la mia prima camera, è un muletto evoluto è una fotocamera divertente da usare ma non è la mia prima camera e difficilmente lo diventerà 5D è la mia prima camera e se dovessi scegliere una seconda camera sarebbero 6D o R7 quindi non è quella la mia prima camera non è quello il tipo di camera che considero la mia arma primaria quando vado a scattare ciò non di meno, mi rendo conto che nel momento in cui vado a realizzare questi scatti ho una stabilizzazione che è migliore di prima perché comunque con le ottiche di prima corpi non stabilizzati e ottiche di prima ottiche F avevo una stabilizzazione che si era sui 3 stop se ricordo bene quindi abbiamo un pochino di più in più su certi corpi mirrorless abbiamo la stabilizzazione anche in camera quindi andiamo a migliorare il discorso qual è? un miglioramento c'è un miglioramento c'è perché abbiamo delle sinergie che vanno a lavorare all'unisono per darci un risultato diverso rispetto a prima e questo risultato si compone di tempi di scatto che possono essere più lunghi perché abbiamo una stabilizzazione migliore di prima e questo è innegabile abbiamo una stabilizzazione migliore di prima quindi potremo scattare con tempi più lunghi la seconda cosa è che abbiamo una migliore gestione dei valori ISO alti quindi nel momento in cui anche dobbiamo andare a scattare con dei valori ISO più alti della norma abbiamo comunque un pochettino il sedere parato perché anche se andiamo a ISO 1000, 1200 a me sembra che l'immagine non ne abbia risentito particolarmente certo avrò perso un po' di gamma dinamica e questo mi secca molto ma questa è la terza cosa su cui queste fotocamere lavorano devo dire bene perché questa fotocamera ha una gamma dinamica migliore rispetto per esempio a 6D con cui facevo prima questo genere di lavori dovrebbe essere alla pari con la 5D quindi siamo lì ripeto non è la mia prima camera la mia prima camera è quella che mi dà di più in assoluto ed è 5D e non sarà facile scalzarla da lì però Canon EOS R si avvicina molto allo stesso sensore è un processore molto simile quindi siamo lì e quindi io ho una stabilizzazione migliore una migliore tolleranza agli alti ISO e questo si traduce nel fatto che adesso posso scattare un po' più serenamente certe cose che prima mi facevano un po' tribolare questo che cosa significa? che d'ora in poi vado a fare le foto di interni a mano libera magari tenendo la fotocamera così come se fosse un revolver? no, non è assolutamente questo il ragionamento il ragionamento è che quando sono in difficoltà la fotocamera mi aiuta un pochettino di più mi viene un pochettino incontro mi permette di essere un pochettino più sciallo nel momento in cui non sono pienamente professionale ora possiamo fare mille discorsi su questo tema noi vogliamo essere meno professionali l'obiettivo della nostra vita è essere meno professionali e sbracarci quando andiamo a fare i lavori e lavorare male personalmente no questa non è la mia filosofia lo fiato nei polmoni non lo sarà mai per cui questa è una cosa che a me potrebbe non interessare questa è una cosa di emergenza che in un caso come questo può tornarmi utile in un caso in cui ci sia un imprevisto in un caso in cui io non sia stato in grado di far fronte alla situazione o in un momento in cui per carità in un momento in cui sto facendo uno shooting di un certo tipo e mi chiedono un'altra cosa magari con una fotocamera di questo tipo faccio meno fatica a proporre un'altra cosa è una cosa per cui non mi ero preparato questa è una cosa per cui la mirrorless può avere dei punti può portare dei punti in più al nostro arsenale fotografico per tutto quanto il resto devo dire che le teorie secondo le quali sia unicamente marketing sono molto molto solide perché? ma per una serie di motivi perché se andiamo a vedere nello specifico quando io lavoro in luce controllata non c'è differenza tra quello che posso realizzare con una mirrorless è quello che posso realizzare con una reflex la grossa differenza è la gamma dinamica e la precisione ad altiso e in un contesto come quello che state vedendo adesso di luce controllata non c'è una grossa differenza anche se devo dire che per esempio Canon EOS R7 ha una definizione molto bella perché è un oversampling dal 7K se ricordo bene quindi a me dà una grana, una texture è una definizione molto bella mi piacciono molto nessuna delle mie altre fotocamere mi dà una definizione come questa sul video 4K quindi avevo delle fotocamere che performavano molto bene sul Full HD avevo per esempio la 5D Mark IV che performava più o meno uguale sul 4K però era una reflex e io la usavo per fotografia invece io volevo una mirrorless perché una mirrorless è una videocamera per fare questo tipo di contenuti quindi in questo caso questo prodotto va fortissimo secondo me le mirrorless sono delle macchine eccezionali per realizzare contenuti video, per girare al volo per girare senza stare a pensarci troppo per usare un sacco di automatismi per essere meno professionali la mirrorless è una fotocamera e videocamera soprattutto che ti spinge a essere meno professionale laddove con la reflex dovevi essere più professionale perché avevi più controllo quindi dovevi fare più cose dovevi saper fare più cose proprio come la pellicola ti obbligava a fare più cose a sapere più cose a saper fare più cose si sta via via perdendo la professionalità e secondo me questi strumenti al di là di quelle due cose in più che ti fanno fare secondo me questi strumenti ti spingono a essere meno professionale ti spingono a dire mi disinteresso di questo aspetto l'esposizione chi se ne frega la fa la fotocamera tanto la fa bene ormai la fa bene da sola io me ne disinteresso perché è comodo è comodissimo io non la faccio più quella roba quell'aspetto non me ne curo più la messa a fuoco chi se ne frega la fa la fotocamera tanto a me non interessa più quell'aspetto ormai da adesso in poi non dovrò più preoccuparmene è vero possiamo presupporre che la tecnologia migliorerà sempre di più e quindi è vero che io posso disinteressarmene però il fatto di arrivare a disinteressarmene dopo anni che faccio questo lavoro è un conto cominciare oggi dicendo quella roba io non la studio perché tanto la fa la fotocamera per quanto mi riguarda è veramente l'orrore poi è ovvio che sta a ciascuno io posso avere una mirrorless e disattivare gli automatismi e giocarmela a mano come si faceva una volta posso farlo ma difficilmente succede perché è già tutta preimpostata con delle cose sue quindi mi spinge proprio a usarli questi automatismi anche perché sono belli sono comodi funzionano bene se io ho imparato su pellicola e quindi capisco la differenza e so che cosa fare e che cosa non fare mi cambia poco può essere un ausilio può essere una cosa interessante fotografi che nascono oggi e che crescono oggi con questa tecnologia in mano non dico che non voglio parlare male dei giovani fotografi che cominciano adesso anzi mi dispiace lo dico con dispiacere perché si perdono tutta una parte che non avranno che gli mancherà e con cui non sapranno confrontarsi e daranno più importanza alle feature del loro corpo macchina piuttosto che ad altre cose che secondo me una volta erano più importanti adesso è evidente che non lo sono più però potrebbero tornare a esserlo e questo dipende anche da noi da come ci proponiamo sul mercato quindi questa è la riflessione che vi porto oggi fatemi sapere che cosa ne pensate fatemi sapere se anche voi avete quest'impressione che la mirrorless si ci dia un po' di potere di potenza di fuoco in più possiamo sparare più potente quando stiamo facendo certi tipi di lavori però al di là di quello sono oggetti sono inanimati se non ci mettiamo noi l'anima dentro nelle cose loro da sole le mirrorless non ce l'hanno un'anima e quindi difficilmente da sole settate su full automatic tirano fuori qualcosa di buono avranno una buona qualità di immagine ma faranno delle cose molto molto piatte con cui io francamente mi trovo poco anche da dire che le sto utilizzando relativamente da poco le reflex nel mio cuore non le rimpiazzerà mai niente perché secondo me erano le fotocamere migliori in assoluto le mirrorless secondo me sono delle videocamere migliori per fare fotografia diciamo che sono contento del risultato che tiro fuori però questa spinta che ti danno verso la minore professionalità proprio non mi piace infatti io anche quando uso una mirrorless la uso come se fosse una reflex quindi tengo il monitor spento e cerco di lavorare come si faceva una volta fatemi sapere la vostra fatemi sapere come vi trovate se secondo voi ho detto una sequela infinita di scempiaggini fatemelo sapere in un commento vi ricordo anche nel caso in cui fosse stato d'accordo per sommi capi con qualcosa di tutto quello che vi ho raccontato stasera che potete fruire altri meravigliosi contenuti come questo basta che vi ricordiate di cliccare il bottone iscriviti e attivare la campanella in modo da non perdervi le notifiche signori vi ringrazio di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video un po' del vostro tempo un po' del vostro tempo un po' del vostro tempo